Carta di identità, biglietto, amici, partiamo in Barcellona Porto 28 e boarding pack Ci vediamo quando ci rilasciamo, un'oretta e mezzo Mentre andiamo a Barcellona, Gianca si legge, i sciamani Siamo in discesa, siamo in discesa in arrivo a Barcellona La playa dopo la playa Siamo arrivati, abbiamo già perso Maxi Bagno, bagno, ho bisogno del bagno Bagno, Maxi è alto, si dovrebbe vedere L'abbiamo perso, non sappiamo dov'è Ha detto che ha anche già ritirato i bagagli Ma siamo usciti e non c'è Ok abbiamo recuperato Maxi L'abbiamo recuperato Abbiamo recuperato le guide Adesso stiamo cercando di trovare il treno E poi la metro Abbiamo comprato il T10 Che è il biglietto che ci permetta di girare ovunque qui a Barcellona E adesso prendiamo sto trenino per poi prendere la metro Rende 2-4 fermate 27 minuti Poi 4 minuti a piedi E arriviamo al bario gotico praticamente Al quartiere gotico Santo Google Inizia a diventare buio Adesso Cominciamo ad aver fame Noi continuiamo ad aver fame Non abbiamo mai smesso di aver fame Di aver sete Due sole fermate Metro Fatta Per sopra più identità No Trovate Trovate la carta di identità Trovate Sei sempre il solito Sei sempre Però tu devi andare a girare dai mani Andiamo siamo in un posticino Che c'è tutto da mangiare Da bere Ci sono altre belle ragazze Che corrono Questa è per fare colazione domattina Se poi vuoi farti la manicure Invece puoi venire qui Manicure e pedicure Siamo arrivati A casina No freddo non fa Sta bene Questa qui è l'appartamentino Non è per niente male I due letti Il balconcino Che Marsi ha già addocchiato Ah che bellino anche qua su Il balconcino E' bella rinnessa Vediamo cosa c'è fuori E' carina sto posticino E cos'altro c'è che c'era un bagno anche Andiamo a vedere che bagno Di qua Che bello Che bello però Il porticino con G Plate E doccia Fantastico E' ora di mettere sotto carica La telecamera Un po' di relax Prima di uscire E adesso mangiamo 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 Ci facciamo mangiare Abbiamo mangiato Stiamo bevendo E proseguiamo Già anche in salato I denti invece Cioè è già È già arrivato alla fine Ma basta vai a letto Siamo arrivati all'aranga Tapas Prosciutti Formaggi Birre Vino I musconi Che cazzo sono i musconi Ma perché ogni tanto viene fuori queste parole E cosa vuoi davvero Io sai che cosa mi mangerei Una crepa alla nutella Sembra di essere a Venezia Guarda che roba Che sbovere carnevale Andiamo alla Sagrada Famiglia Vediamo se ci arriviamo La Sagrada Famiglia Chiude a luna Quindi oggi ci spostiamo Andiamo a Park Gaudì Park Gaudì Mi piace Mi piace Mi piace E poi passeggi Per Park Guell Tranquillo Beato Pacifico Ti giri Trovi Senza testa E' un po' terrificante Il vino Svelo testa E' un po' tentare E' un po' tentare no 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 Grazie a tutti. The washerwoman, the washerwoman, se non conosci la storia, stai vicino qui, il portico of the washerwoman. Massimo, non vi piace questa posizione. Sono affascinato da questo parco, mi piace da matti. Siamo a fine novembre e non poteva mancare il mercatino di Natale, tipico. Il fiero di Santa Lucia, come quella di Bologna. E poi entri in questi posti e vedi che magnificenza. Abbiamo anche il sole oggi, se ne andiamo alla Sagrada Famiglia. Amen. Amen. Conclusione Sagrada Famiglia. Qui giù è una figata. Su, sono soldi buttati. Almeno per la torre che sono andato a visitare io. Non quella della Navidad, ma quella della Torre della Passione. L'unica cosa carina è la scala a chiocciola. Il museo, invece, è veramente da via. Enorme, enorme. Ok, usciamo dalla Sagrada Famiglia e andiamo a verci una perletta. Sì. Ciurro, sin cioccolate. domani mattina, domani giurro, stampa, sangria, di tutto, di tutto, tacco, snaccio, cincilade potremmo andare a bere una sangria salute, viva, di nuovo, di nuovo è imballato di stradine, questo posto, ovunque c'è gente, ovunque c'è gente, ovunque c'è casino, chiariamo, chiariamo, un bracciale, in pelle, giallo, rosso, assolutamente, non ci deve essere del blu, poi non deve essere sintetico, no, niente sintetico, ma lo costruisci, voglio dire di comprarmi materiali che costi poco, per fortuna abbiamo mangiato, abbiamo mangiato la nostra paella, abbiamo mangiato le tapas, un pulpo, i fisci, i fisci abbiamo mangiato, quindi vabbè, tra l'altro, un camarero s'argentino, un camarero s'argentino che si chiamava, come si chiamava Gianca? Adolfo, siamo arrivati anche al porto, oggi partiamo, quindi ultime ore qui a Barcellona. Grazie a tutti, grazie a tutti. Hanno un problema con i crostini qui a Barcellona, non ci mettono niente sopra, un po' bagnati di rosso, però la tortilla sembra buona. la cosa figa è che con questo biglietto giri per tutta Barcellona, T10, autobus, metro, treni, tutto, costa 9,99 e ti danno 10 corsi. Siamo arrivati all'aeroporto, abbiamo finito il nostro viaggio, ce ne torniamo in Italia. Baci, abbracci a tutti. Saluti, buona giornata. Adios! Adios! Ciao! 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 Ciao!